Eccoci qui, un saluto come state? Ben ritrovati, un abbraccio, una buona giornata da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Vi immagino chi va al lavoro, chi va a scuola, chi sta a casa, chi magari è in bagno, non oso immaginare anche situazioni, anche se qualcuno mi ha raccontato. Beh, comunque ci sta, entriamo anche noi nelle vostre case. La maglietta di Megnan per provare a vincerla, autografata, dovete scaricare gratuitamente l'app di Murodiezza da questo link, iscrivervi al mio canale personale su YouTube, qui sotto c'è il link, e seguire su Instagram mbmaglie, il profilo Instagram che mette a disposizione la maglietta. Scatenatevi, una delle ultime occasioni perché tra qualche giorno la assegniamo a un fortunato. Poi ci saranno anche altri contest. Allora ragazzi, vigilia di Champions League, domani gioca al Milan, finisce uno e inizio l'altro, per gli appassionati come noi insomma è bello continuare a commentare il calcio, poi il Milan ne ha vinte 6 su 8, una l'ha persa, una l'ha pareggiata in Champions. Poteva esserci un inizio peggiore, decisamente sì. Allora, rispondere a vostre domande sulla sua età community di Milano risponde, vi faccio vedere anche un documento, secondo me molto interessante e rappresentativo, e vi do anche delle news su quello che potrebbe essere l'attaccante del futuro. Ne parlavo anche in chat con gli amici. Pensate noi da quanto tempo attendiamo questo numero 9 e visto il weekend abbiamo visto l'exploit di Lautaro, c'è sempre comunque un grande Ossiman, abbiamo visto insomma anche Lukaku che ha segnato ancora. Pensavo, pensa se noi ne avessimo uno così, più Leao e più Pulisic che cosa saremmo. Nulla toglierà Giroux che però ha la sua età, però pensate davvero, se noi si resta così e si riesce a mettere dentro un numero 9 come si deve, che faccia tanti gol con facilità, lo dico ad alta voce, facilità, ragazzi siamo uno squadrone. Ovviamente poi servono anche altre cose. Andiamo allora con ordine. DJ Devix dice Se Mignan non si muovesse della sua richiesta di 8 milioni per il rinnovo, potrebbe seriamente pensare a Milano di metterlo sul mercato? O farà di tutto per rinnovarlo? La richiesta a me risulta essere di 6, più umana rispetto agli 8-10 di cui aveva parato la gazzetta. Milano farà in ogni caso di tutto per rinnovargli il contratto e fargli mettere questa firma qui senza le moci del sorriso sul contratto, a meno credo senza. In ogni caso anche con il rinnovo, lui potrebbe essere un nuovo mercato la prossima stagione, se arriva l'offerta da 100 milioni di euro. Però, insomma, io spero di tenerlo, il giocatore è molto forte, ma è chiaro che bisogna navigare a vista. Sul caso Tonali ci siamo scottati, ma poi abbiamo assorbito. Detto che prima o poi Tonali torna. E poi soffriamo molto le squadre che si chiudono a catenaccio e ripartono sulle fasce, come l'Inter, in parte anche contro il Cagliari. Dice Mr. Perfez, Mirko, se ne sarà accorto più, direi di sì. La contromossa, io direi che ogni tanto bisogna giocare con quelle squadre lì, anche noi ogni tanto attendere, senza andare. Farle scoprire un po' loro e colpirle come loro vogliono colpire noi. Tendenzialmente, ecco, contro queste squadre è chiaro che devi tenere magari un terzino fermo, uno dei due. Devi avere, insomma, una coppia di centrali affidabile e magari un centrocampista lì in mezzo, che sia un po' più accorto, un po' più basso, alla crunic che comunque abbiamo preso in bucate. Devi essere più prudente con quelle squadre. Poi a livello tattico non mi sostituisco a Pioli, ovviamente. E poi, che le pensi di quell'abbraccio degli Pioli a fine gara, che significa per te? Beh, che si stanno apprezzando, non si sono capiti, ora si capiscono e sicuramente stanno provando a valorizzarsi a vicenda. Ieri, grande prestazione, l'ha scritto l'altro giorno di Adli, tanti su Adli devo dire, se parte Mignanchi può essere un degno sostituto? Ma, Roberto, non lo so. Non lo so, al momento non ci voglio pensare e spero che possa restare ancora, perché lui sta bene qui. Tra l'altro, a breve ci sarà un incontro vis-à-vis, dopo quelli telefonici, con il suo agente. Quindi incontro che sarà importante, con i suoi agenti. A raduno dell'anno scorso puntavo molto su Adli, ma Pioli non l'ha mai utilizzato. Vincenzo, tanti come te. Il profilo di Luvumo mi è piaciuto molto. Pensi che si possa fare qualcosina per lui? Ma ce ne sono diversi, se c'è lui, Gudmussen, Zirkze, anche se non sta segnando tanto, ma se si sblocca, ragazzi, diventa un giocatore formidabile. Luvumo mi ricorda un po' Oba-Oba Martins, però non deve essere lui l'attaccante, cioè deve essere, eventualmente, il doppio colpo. Ma il numero 9, secondo me, deve essere qualcosa di più forte. Il punto debole dell'attaccante è che non abbiamo un giocatore da 20 gol. Giuseppe, hai stra-ragione. Si dice Teguereson dalle mie parti. Cioè, comunque, con la Sernitana, in mezz'ora, noi uno che fa 4 gol non li abbiamo. Serve come il pane, ragazzi. Non ce la faccio più. Voglio prendere un 9 che ci cambi la vita. Ce lo meritiamo, questo 9. Non ce la faccio più. Ma non è togliere qualcosa a Giroud. Anche Okafor sta facendo bene. Ma serve un 9 che la butti dentro con una facilità estrema. Poi, adesso vi do qualche indicazione in più. Tutti, tranne forse Pellegrino e Romero, nel giro di Massimo Mese riusciranno a dare un degno apporto alla squadra senza la goccia di dover sempre aspettare e sperare. Direi di sì. Quest'anno la tendenza è quella. Adriccio l'olfantacaccio da due anni. Finalmente vedo i frutti grandi Massimo. Come vedi, questi giocatori da primavera, Stalma, Ximic e Cuenca. Allora, bene. Mi intrigano soprattutto Stalma e Cuenca. Lo stesso Simi c'è, per carità. Ma lo conosco un po' di più, mentre voglio scoprire Stalma e Cuenca. Detto che Zeroli, Camarda, Eletu, secondo me qualcuno in prima ci arriva. L'anno scorso serviva un attaccante, non è arrivato neanche quest'anno. Dicevamo che serviva un vinceteo, quest'anno non è arrivato. Secondo te non è un po' troppo queste mancanze, anche il play, per puntare allo scudetto? Sono mancanze, ma ricordo che vinciamo uno scudetto quando a gennaio si fa male Chiera a dicembre, non prendiamo nessuno per sostituirlo, e promuoviamo Calulu. Quindi, fiducia, anche le altre hanno le loro lacune. Siamo troppo fragili dietro, non siamo compatti, questo ho scritto però prima della gara con la Lazio. Bisogna, serve più copertura, bisogna sistemarsi. Tanto un clean sheet con la Lazio è arrivato, clean sheet porta clean sheet, spero. Bisogna sistemare un po' di cose, sta mancando anche Calulu che è un giocatore importante. Calulu dice comunque aspettiamo a dire che è un fenomeno, sono d'accordo, a che punto è Ben Nasser, rientrerà a Milano a metà ottobre. Secondo me, ecco, non c'è ancora un tempo definito, secondo me, io spero che possa non andare a gennaio a fare la Coppa d'Africa, ma lui vuole farla. Lo rivedremo in campo con i Milan, secondo me, a febbraio, ma magari in forma a marzo, per il rush finale. Poi, sbaglio, Adri, mio fratello è palesemente più forte di Krunic, sbaglio, Musa, altro mio fratello è nettamente più forte di Krunic, dice Riccardo. E poi ancora, così ha anche Francesco. Loftus dovrebbe riposare un pochino, va scritto tre giorni fa, il nostro amico, si è procurato con la distrazione, che però non è cosa seria. Tra l'altro, ieri poi applicato sui social, ci siamo quasi a rientro, quindi, qualcuno dice, potrebbe rientrare già addirittura sabato con il Genoa, io direi, magari, però non bisogna rischiare. comunque viene monitorato quotidianamente, ma con la Juve dopo la sosta ci sarà, e questa è una cosa molto buona. perché Camarda non gioca al Barcellona, farà emergere subito i giocatori giovani? Ma, dai, aspettiamo ancora un attimo, comunque, è appena entrato in primavera, il prossimo anno, secondo me, farà Under 23, e poi sarà pronto, spero, per la prima squadra. Se fosse rimasto Maldini sarebbe arrivato Berardi, Amaro in bocca, ma io mi tengo Pulisic, sinceramente, che è un profilo europeo, tre spanne superiore, a me piace Berardi, eh, intendiamoci. E poi ancora, qualcuno scrive comunque più all'out, Sandrino, ma stiamo andando bene in questo momento, l'attaccante, lo dico ragazzi, non ce la faccio più, a guardare dall'altra parte gli attaccanti che segnalano con facilità, comunque, c'è Ossimen, c'è Lukaku, c'è Lautaro, soltanto in Serie A, dobbiamo prendere questo benedetto numero 9. Nella scorsa pausa di campionato avevamo parlato di diversi nomi sul taccuino, di diversi dossier aperti, e sicuramente sarà la cosa più importante da fare. Ieri in Whatsapp Martina gli scriveva tanto non pagheremo 50 milioni per l'attaccante, io dico, perché no? Calma, il prossimo anno dovremo fare non 10 operazioni, ne dovremo fare secondo me 4 barra 5. con il bilancio inattivo. Quindi, perché no? Il 9 è una cosa troppo importante, il 9 è una cosa che tendenzialmente costa, è una cosa che non possiamo sbagliare, è una cosa che tendiamo da anni, quindi, io non mi aspetto un'operazione da 25-30, neanche da 35, un'operazione almeno da 40 barra 50. facciamo un stato di qualità a triplo. Ci sono diversi profili, attenzione perché la scorsa settimana risulta, ci siano stati contatti tra il Milan, la dirigenza del Milan, e quello che possiamo definire non un vecchio pallino, un pallino, che Jonathan David, 23 anni, canadese, nato a New York, 1,75, punta dell'Ile, con il contratto di scadenza nel 2025. Significa che in estate lo prendi con una situazione contrattuale favorevole a soltanto un anno dalla scadenza. Operazione che si può fare un po' più facilmente rispetto ad altre, perché il Milan ha ottimi rapporti con il Lille, c'è stato anche il caso Leao, lo sapete, il Milan ci ha approvato per l'ultimo giorno di mercato per Jonathan David, ma era troppo tardi, e il Milan la scorsa settimana ha avuto nuovi contatti con il suo entourage, che ha dato un feedback verde, positivo, Jonathan David ha espresso un gradimento importante per il Milan, la mia domanda è, è l'uomo giusto o il posto giusto? Non ne sono certo, fino a qualche mese fa avrei detto di sì, poi alcuni addetti ai lavori mi hanno detto, guarda che siccome non è l'attaccante che serve al Milan, non è l'attaccante che ti risolve, ha bisogno della squadra, segna anche molto su calcio di rigore. quest'anno ha fatto sette partite, i due gol in Ligue 1, una partita e un gol in Conference, due partite e un gol in qualificazione di Europa League, non è di Conference, scusate, non è una stagione brillante al momento, ero andato a vedere anche lo scorso anno, lui aveva fatto un bel po' di gol, in Ligue 1, 24, ma qualcosa come 10 calci di rigore, quindi 14 gol e 4 assist, l'anno prima 15 gol, è uno che sta segnando sempre e tanto, mi fido della dirigenza che non deve sbagliare questo colpo, sarà lui, potrebbe essere lui, un'altra cosa che mi sospettisce il fatto che queste stati sono spostati tanti attaccanti, e lui comunque non l'ha preso nessuno, quindi forse il giudizio di tanti addetti ai lavori, come quelli con cui ho parlato, è più o meno lo stesso mio. Cambieresti modo di giocare, che potrebbe non essere neanche un male, nel senso che stiamo vedendo come con una punta di movimento cafora, comunque si può far bene, è chiaro che cambi modo, cambi filosofia, perché prendi un alto 1,75, e non hai più la soluzione sulle palle alte, devi cambiare modo, anche Lautaro non è un aperti, che però segna tantissimo, l'importante è avere confidenza con il gol, lui ce l'ha, può essere lui il nostro bomber del futuro, nell'idea del Milan potrebbe essere lui, il Milan si sta muovendo e si è mosso per Jonathan David, significa che ritieni possa essere l'uomo giusto al posto giusto, si sta muovendo Moncada, e potrebbe muoversi anche Furlani direzione Lille, quando si è mosso Furlani direzione Lille, abbiamo sbloccato il discorso multa, risarcimento allo Sporting, e il rinnovo di Rafaleao, ci sono ottimi rapporti, vediamo se può essere lui la punta, con un attacco che eventualmente cambia davvero pelle, molto rapido, meno strutturato a livello aereo, però magari molto pratico, gol bisogna farne, farne tanti, e attenzione, perché in questo preciso momento storico, la candidatura numero 1, oggi, per l'attacco della prossima stagione, è Jonathan David, non credo a gennaio, non escludo, ma non credo a gennaio, a meno che poi, hai esigenze a gennaio, però nel frattempo mi sembra che, Bocaforte stia rispondendo bene, tra poco entrerà nei giri anche Jovic, potrebbe non essere una necessità, vediamo, io ho altre preferenze, voglio leggere le vostre qui sotto in un commento, però, se sarà lui, forza David, scatenatevi con i commenti, iscrivetevi, lasciate un bel like, chi non lascia un like, ti fa la seconda squadra di Milano, che tra poco sarà la terza, e provate a vincere la maglietta di Mignan, qui sotto, tutte le indicazioni per vincere il contest, scrivete voi il vostro nome, qui sotto, un abbraccio, ci vediamo più tardi, ciao ragazzi, forza Milan, forza Milan! ciao!